non vi preoccupate per me non è un problema ragazzi ho 3 e 5 c'è una coppia di 3 quindi 300 ponete le vedo perché c'è una coppia ok 5k già ora ci vengo io a filippo 5k però se vengo poi io filippo no vabbè passo la prima me ne c'è una ciotola d'uncissima me ne c'è una ciotola d'uncissima io passo la no io passando di due soldi non avevo bisogno una 60k tu hai sbagliato devi andarci tu invece mimmo tu devi andarci che travo qualcosa travo qualcosa solo tu eri rimasto tu e io e ci prendevi dove si dice k pazienza ormai anche da così io non gli ho dato i soldi in più perché io c'è lui c'era più di me in questo momento io c'ho 29k e lui nel 60 e c'è da maria che carte buone k e q k e q 29 ma che carte hai tu k e raga quaga non escono mai di tempo ragazzi quaga non escono d'assai piccolina non è combina guai ma ne è felice tu stai la beniamina di tutti gli dèi sei tu pollon venga bollon 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 bingga un cazzo c'ho un cazzo c'ho ma siamo solo io contro di te filippo venga un cazzo 610 faccio scala ragazzi ok non hai fatto scala io faccio check no anzi io passo filippo tanto ormai io faccio check ma check anche tu tante lo stesso stiamo solo io e te l'aumenti che fai check e sette doppio lui c'ha magnifico di russo di russo